Correre fa bene alla salute ma anche all'umore, questo è riconosciuto scientificamente, ma quando a questo aspetto puramente agonistico sportivo associamo una componente solidale, beh il risultato per il nostro organismo dal punto di vista umorale migliora tantissimo. Lo hanno ben pensato gli organizzatori della Cuckoo Run che giocando un po' sulla fonetica del nome della frazione e ciò che si vuole organizzare, Run appunto dall'inglese Corsa, hanno dato vita ad un evento per tutta la famiglia e anche per chi vuole passare una domenica con il proprio sport preferito, il tutto condito con la solidarietà per le popolazioni terremotate. Lo scopo di questa iniziativa come dice anche il volantino stesso è una gara dedicata soprattutto per la solidarietà in aiuto dei terremotati quest'anno, ho visto quello che è caduto giù nelle basse marche ed è soprattutto come da 11 anni a questa parte una festa, vuole essere una festa del paese di Cucurano dove con la podistica vogliamo far divertire grandi e piccini e per chi non corre anche la camminata. Il percorso si svolge lungo il centro di Cucurano e le campagne circostanti e quindi di Cucurano e anche falcinetto fino ad arrivare a Carrara. La caratteristica principale di questo percorso è che è interamente pianeggiante, 10.000 metri precisi e interamente chiuso il traffico per cui chi vuole può anche fare il proprio personal best. Nella organizzazione della gara quest'anno abbiamo coinvolto anche un gruppo di ragazzi extracomunitari che sono ospitati presso una struttura di Cucurano al fine di avvicinarli alla popolazione. All'interno poi di questa giornata c'è anche un memorial molto importante. Sì c'è il memorial Burrai che ormai è 3-4 anni che lo facciamo, è sempre più partecipato e c'è sempre più gente. Tutta la famiglia significa proprio tutta, bambini compresi, i quali lo sappiamo non è che abbiano una resistenza e un senso del sacrificio spiccatissimi. Diciamo che la componente gioco è predominante ed allora ecco che troveranno pane per i loro dentini. Ci sarà anche all'inizio della manifestazione, dopo l'inaugurazione, la gara di tutti i bambini delle elementari, quindi dalla prima alla quinta. Quindi anche le scuole che non sono nei nostri dintorni possono partecipare presentandosi entro 20 minuti prima della gara. E poi anche chi non corre può partecipare perché c'è la camminata. Sì esatto esiste anche la camminata che diciamo il percorso è più o meno simile però dura solo 5 chilometri. È sempre diciamo per solidarietà quindi a chi piace camminare è invitato a venire. Grazie. Grazie.